Sintac Bucci, continua l'operazione di riconoscere e promozione della città di Genova e di giro per il mondo con un valore aggiunto in più questa volta, un valore aggiunto di tipo scientifico e medico coinvolgendo una delle istituzioni più importanti sul territorio che è proprio Gaslini. Sono assolutamente d'accordo, Gaslini è una grande realtà, un gioiello del nostro territorio che dobbiamo valorizzare sempre di più e ci aiuta a mandare un messaggio professionale dal punto di vista dell'ambiente della sicurezza e della salute, ma anche il messaggio della città della città è una qualità di vita ottima, dove si dire benissimo e dove si sta veramente a secondi praticamente a nessuno. Questo è il messaggio che dobbiamo mandare in giro. Questi ragazzi e ragazze che sono stati da noi manderanno in giro questo messaggio, i commenti che hanno fatto oggi sono eccezionali e questa è la strada giusta, vogliamo farlo sempre di più e continuare su questa strada. Qual è l'aspetto che ha colpito di più i ragazzi di questa esperienza? Beh, innanzitutto la nostra cultura architettonica, artistica e il modo in cui viviamo, la qualità di vita del walking distance attraverso la città. Qualcuno ha anche detto che il nostro sistema di mobilità, cioè il nostro auto, è un'escezione e questo ci fa molto piacere. Ricordiamoci che il modo di vivere che abbiamo noi in Italia, soprattutto qui a Genova, è una cosa che tutti ci indignano. Dobbiamo continuare a parlarne e parlarne, parlarne e fare in modo che questo sia apprezzato e avere la giusta ricetta economica sulla nostra città.